Cagnoni maledetti, avete dormito bene? Avete riposato bene? È importante per tanti motivi che non vedremo in questo video, perché in questo video voglio parlarti di un'altra cosa sempre legata alla voce e a un nuovo progetto che è in pista. Prima di incominciare però metti un mi piace, un seguimi tutte queste cose che a te costano davvero pochissimo tempo, ma per me sono molto importanti. Io sono Walter Rivetti e su questo canale, così come sul mio sito www.rivettivalter.com parlo di voce, di doppiaggio, di adattamento e dialoghi. Oggi parliamo di voce. Io ho una figlia e le ho sempre letto fiabe, favole per farla addormentare e per metterla a dormire, devo dire, non ho mai avuto grossi problemi. Ma ultimamente ho incontrato delle coppie che hanno dei bambini piccoli e che mi raccontavano di come sia difficile riuscire a far addormentare i loro bambini perché prima di andare a letto sono sempre molto agitati, hanno voglia di fare tantissime cose, di giocare, di sperimentare eccetera eccetera. E mi hanno chiesto, ma tu ci dai dei consigli su come leggere le fiabe, le favole? Al che ho ragionato sul metodo che ho utilizzato con mia figlia, glielo ho spiegato e ha funzionato. Allora ho pensato di realizzare un mini ebook con relativi audio spiegazione annessi per gli insegnanti, per gli educatori, per i genitori che hanno questo problema, cioè quello di mettere a dormire i propri bambini. Perché spesso si usano delle dinamiche vocali sbagliate e quindi ho creato questo ebook che si chiama La Voce che Culla. Io non sono un pediatra, non sono uno psicologo, quindi non mi metto a raccontare cose che riguardano quella sfera professionale. Io mi occupo di voce e di come utilizzarla al meglio. Perciò in questo ebook ti spiego come utilizzare al meglio la propria voce e di come usare queste strategie per quella finalità che è totalmente diversa da quella che si usa ad esempio a teatro. In questo ebook non è necessario conoscere la dizione. Tu sai che io sono un attore professionista e quindi come doppiatore pretendo una dizione corretta. Ma qui non ce n'è bisogno, non sono un talebano della dizione. Certo sono convinto che alcune parole si debbano conoscere perché questo è l'italiano e tutti dovremmo conoscere bene l'italiano. Ma non è indispensabile permettere a dormire un bambino o una bambina, quindi la dizione non è indispensabile. Così come l'articolazione. Ho un altro corso di articolazione ma è indirizzato in particolar modo a coloro che vogliono diventare doppiatori o doppiatrici. È davvero un mini corso sull'uso della voce. In realtà ci sono formatori che fanno solo su questi elementi della voce una formazione di un fine settimana per 300 euro. In descrizione trovi il link per il corso La Voce che Culla. Lo puoi scaricare, leggere con tranquillità, ascoltarti gli esempi audio e poi applicarti. Lo so non sarà immediato ovviamente. Dovrai lavorarci un po' perché sono delle strategie. Ti insegno come utilizzare la voce per riuscire a tranquillizzare e a far addormentare tuo figlio o tua figlia. Ci vuole davvero poco ma un po' di tempo devi concedertelo per imparare queste strategie e per utilizzare al meglio la tua voce. Non è immediato quindi datti un po' di tempo. E se pensi che basti parlare piano, lentamente, in maniera dolce per far addormentare tuo figlio o ti sei già scontrato con questa realtà e hai capito che non è vero oppure molto presto lo scoprirai da solo. In descrizione il link per l'ebook corso La Voce che Culla. Impara ad utilizzare al meglio la voce per far rilassare e per accompagnare alla nanna il tuo bambino o i tuoi bambini. Non ti dico che cosa dire, che cosa leggere, questo lo lascio a pediatri, psicologi e anche alla tua sensibilità. Ma ti dico qual è il modo migliore per farlo. Ora è il momento di studiare e di andare a nanna.